Sono arrivati alla cifra di 1139 i tamponi processati, 981 sono negativi. Questo è il bollettino dell'ASREM diramato stamattina alle 11. 158 dunque quelli positivi, sale di 14 il numero. 139 nella provincia di Campobasso, 10 in quella di Sernia, 9 di persone da fuori regione. Al Cardarelli sono 32 le persone ricoverate. Di questi 23 sono in malattie infettive, 8 sono in terapia intensiva e 1 in terapia subintensiva. Sono 104 invece i pazienti in isolamento domiciliare perché asintomatici o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici. 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti, sono tutti della provincia di Campobasso. 9 i positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli. 2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Sernia e 5 di altre regioni. 10 i pazienti deceduti con coronavirus. 8 della provincia di Campobasso, 1 a Sernia, 1 di altra regione. Sono saliti quindi a 26 i comuni in cui si registra almeno un caso di positività al Covid-19. Nella mappa diffusa dall'ASREM, il capologo di regione è certamente quello più colpito in giornata. Infatti sono saliti a 56 i casi. 8 dei 14 nuovi appartengono ai cluster di Campobasso. Uno è quello del 118. L'altro una famiglia già censita che era in quarantena. E tra i ricoverati un paziente di Venafro che, rientrato dal nord dieci giorni fa dopo un intervento di protesi all'anca, aveva febbre e tosse quando la notte scorsa si è recato al Veneziale. Sintomi che hanno insospettito i medici appoggiato momentaneamente nel reparto Covid esterno al pronto soccorso è stato sottoposto a tampone e sempre nella notte è arrivato il risultato positivo che ne ha poi disposto il ricovero presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli. Le sue condizioni per fortuna sono buone.